Vi presento ora il fungo più bello del bosco, la maneta muscaria, guardate qua, è la regina del bosco, il fungo si dice di biancaneve, è un fungo non eduleo, perlomeno va tolta la cuticola e lo si può anche mangiare, ma dispiacerebbe proprio quasi. Ora io mi chiedo, non parlo più perché voglio che sentiate il tintinnare dell'acqua di questo luscello. La maneta, l'acqua, il luscello, la natura qui è rispettata. Salute!